Tra tutti i sport motosporti, quale è il più pericoloso? Beh, per la mia esperienza, sono i suoi in off-road. Ciao, sono Caribo e oggi, da questo scelto scenario, parleremo dei risultati più complessi in off-road e per capire come provare a evitare. Ma prima di iniziare, non dimenticate di iscrivervi al canale e cliccare sul like. Questo video è per me qualcosa di molto personale perché ho sofferto in mia carriera molte injuries che danno la mia salute, ma dopo che ho apprenduto molto. E perché sono un figlio generoso, voglio condividere con voi questa informazione perché non voglio vedere voi come me, a 50, in questa condizione. Le injuries che possono succedere a te se sei in off-road sono le injuries per la mano e per le tue. Se lo spiegate, è davvero facile di spiegare perché sono cose fragili, ma puoi evitare alcune seriouse injuries se utilizzate un'ottima qualità e apprendete come rimanere calma in una situazione molto difficile, anche se fai in problemi con una grande scelta. ovviamente è facile da dire e quasi davvero difficile da fare, ma provate. Il numero 2 c'è il colore e i piedi. Questo può succedere quando entriamo in un ruolo e normalmente quando hai perduto la sua fronte. Puoi saltare in un modo molto veloce, perché non c'è molto che puoi fare. Il mio consiglio è di non andare in panico e rimanere con la mano sull'handlebar. Questo può rispondere probabilmente alcune injuries in questa area. Il numero 3 c'è tutto il trauma del cuore. Questo succede quando si incontra il piede con il cuore. E qui, come usualmente, ti prego a pensare di non rispondere ai nostri equipaggi. Un colore di alta qualità può rispondere la tua vita. Perché in off-road non è come per l'asphalto o per la raccoglione. Perché quando hai perduto con una bicicletta motocross o anche con una bicicletta è qualcosa di molto veloce e non puoi fare nulla. E se hai un colore buon colore può rispondere la tua vita. Il numero 4 c'è qualcosa di molto serio sono le malattie spinali. Non si trattano le malattie spinali ma in questo caso bisogna essere molto serio perché è qualcosa che può ridurre la tua salute per la vita. Perché le malattie spinali possono te mettere in una ruota. E questo è qualcosa terribile che può succedere. Quindi per questo motivo bisogna prendere il cuore. Con la protezione bisogna prendere il cuore. il cuore. Il cuore. Il cuore. Il cuore. Il cuore. non è solo due volte perché ho due mesi ma molti volte due volte. Ho avuto molte malattie e ho avuto un complesso per il cuore. Questo è davvero trattato e affetta anche la tua vita normale. Per questo motivo bisogna anche guardare l'acquipmento che comproviare. sull'acquipmento. Io suggerisco in questo caso non rispondere per il cuore. Non è importante per il cuore. Non è importante per il cuore. Non è importante per proteggere le miei con alcune qualità le miei perché un'acquipmento nelle miei è qualcosa che affetta la tua performance in la zona sport ma anche la tua vita normale. quindi è qualcosa che può succedere facilmente perché a volte è sufficiente per toccare il piede oppure le miei le miei le miei le mie 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 la l'unica di la l'unica la l'unica tra le mie le mie Grazie a tutti.